Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. La mamma di Morgana Domenica indice penso che Marco fosse stanco per la fatica del ballo. Mi dispiace perché ho conosciuto Selvaggia anni fa, l'ho conosciuta come una ragazza molto dolce e attenta. Ho trovato strano il suo modo di comportarsi. Torna la Selvaggia di prima. Forse la sua vita non è stata facile ed è a questo che si deve la sua aggressività. Cerca di essere amica di Marco perché lui ti ha sempre rispettato, non lo dico perché sono la mamma. Per me, Selvaggia, nel suo cuore, è molto dolce.